Ho la pressione anche durante la partita, non dico che lo giustifico, però lo capisco. Gol nel finale, magari se avessi fatto gol dopo dieci minuti all'inizio della partita, sicuramente avrebbe avuto un'esultanza diversa. Non credo che dentro di sé possa non essere riconoscente a una società, a una piazza che gli ha dato tanto. Perché credo che Di Piazza si conosca proprio perché portando quella maglia lo ha fatto conoscere al resto d'Italia.